Il gruppo del Tribunale di Arezzo, Anna Maria Loprete, ha rigettato tutte le richieste di costituzione come parte civile, eccetto quella di Banca Italia. Stiamo parlando ancora una volta della vicenda Banca Etruria e si è svolta al Tribunale di Arezzo la terza udienza preliminare per il filone di inchiesta di ostacolo alla vigilanza, che vede come imputati Lorenzo Fornasari, l'ex presidente della Popolare dell'Etruria, Luca Bronchi, l'ex direttore generale e David Canestri. Ce l'aspettavamo, la giurisprudenza la conoscevamo, evidentemente i giudici hanno sentito di modificare l'impostazione che c'era stata sia per il caso Mussari sia per il caso BPM. Comunque continuiamo ad andare avanti, abbiamo assolto la nostra funzione quella di tentare di modificare le cose come associazione dei consumatori, ma andiamo avanti perché ci saranno sicuramente altre vicende processuali interessanti nel caso Banca Etruria. Noi continuiamo con le azioni civili già presenti dinanzi ai vari tribunali della Toscana nei confronti della nuova banca, Sicuramente qualcuno dovrà pagare in questa vicenda. Ci sono visioni diverse, ci sono altri giuristi che depongono nel senso che anche gli azionisti, gli obbligazionisti hanno diritto a costituirsi parte civile in questo tipo di processo, vi sono altri pensieri che depongono in senso contrario. Accettiamo questa decisione, andiamo avanti e aspettiamo sollecitamente gli eventi ulteriori per la bancarotta e per la truffa. Il nostro commento è che in realtà non si è tenuto conto invece che nel caso specifico c'era un'attinenza del danno dei risparmiatori che è stato subito proprio a causa di questo ostacolo alla vigilanza, il riferimento a una data precisa che è quello dell'aumento di capitale, che rendeva maggiormente forte la nostra richiesta, ecco perché ancor più abbiamo la mare in bocca, ma questo non toglie che tutti gli altri filoni e procedimenti in maturazione non verranno perseguiti dai nostri assistiti. Gli avvocati di Giuseppe Fornasare, Luca Bronchi e Davide Canestri hanno deciso di andare al rito abbreviato. La prossima udienza è stata fissata per l'8 giugno nel corso della quale verranno interrogati a porte chiuse i tre accusati. Una giudizio allo stato degli atti, è questo il senso del giudizio abbreviato, e che quindi tutte le carte che già il gruppo conosce, integrate da alcuna documentazione che abbiamo poi prodotto anche oggi, sarà il materiale su cui dovrà fondare la decisione di o responsabilità o innocenza.